Questo silenzio è veramente insopportabile Ma perché non parliamo un po' di cucina? Io me ne intendo Lo sapete come si cucina l'uccello e la passera? È una vecchia ricetta francese Si prende la passera, vecchio o giovane fa lo stesso La si mette a sbollentare sul fuoco e la si spela tutta O la si mette alla sole a essiccare per tre giorni E dopo con due mattoni roventi la si schiaffa, la si schiaffa, la si schiaffa, la si schiaffa Fino a farla diventare sottile, sottile, sottile Sottile, sottile, sottile E poi la si butta negli acidi così la si spurga un'altra volta e A quel punto chi la vuol mangiare la mangi Ma sempre un tantinello di selvatico la sa Invece l'uccello Una goccia di limone e via natura Ti vuole un po' di tempo per praticarla Ma poi alla fine io non ne capisco E quindi la fiducia si è Si è l'artista, l'artista si è Si è sbizzarrito Ma poi